Mi siete mai chiesti che forma abbia la vostra casa e in che modo voi l'abitiate? Ciao, sono Matteo Cavalleri e sono un assenista di ricerca, un professore a contratto presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, dove mi occupo principalmente di tre macro-autemi. Sono uno studioso del pensiero di Hegel, mi occupo in particolar modo della riflessione metafisica e politica relativa al tema della libertà e dell'eticità. Mi occupo secondariamente del concetto e dell'evoluzione della categoria di solidarietà, come questo tema molto utilizzato ma allo stesso tempo anche estremamente ambiguo si è evoluto nella riflessione filosofica e giuridica tra il 700, 800 e 900 e da ultimo mi occupo di come la filosofia in relazione alla letteratura e all'arte abbia permesso e ci permetta di cercare di pensare e abitare il novecento e questo secolo è estremamente difficile e complesso, quindi abitare il novecento, pensare il novecento e cercare di reggere i traumi che questo secolo ha portato con sé. Il laboratorio che ho pensato di proporvi in occasione della giornata mondiale della filosofia è incentrato sul tema dell'abitare, per l'appunto, quindi la cittadinanza, come abitare e in particolar modo come abitare sociale. Perché? Perché io credo che la cittadinanza sia di per sé stessa una forma di abitare un luogo. Abitare un luogo che allo stesso tempo però ci forma, ci plasma, ci condiziona, ci educa e che a nostra volta però noi siamo chiamati a modificare. Questo, una battuta, è quanto Hegel considera come eticità, l'ethos. L'ethos è la casa nella quale noi abitiamo, una casa comune nella quale abitiamo e che è il supporto per la concretizzazione della nostra libertà. Noi non possiamo essere liberi fuori da uno spazio intersoggettivo che abitiamo, noi non siamo soggetti portatori della nostra libertà pienamente costruita e con questa entriamo nella sfera pubblica, entriamo nella cittadinanza. No, la nostra libertà non esiste se non plasmata e costruita all'interno della cittadinanza e della condizione intersoggettiva. In una battuta, non è affatto vero che la mia libertà finisce dove inizia la libertà di un altro, ma la mia libertà inizia se e solo se e laddove inizia la libertà di un altro. Tutto questo, cosa c'entra con la dimensione dell'appartamento? Non sembra una contraddizione il fatto di tenere insieme questa dimensione dell'abitare sociale, della libertà sociale, potremmo dire, con l'appartamento, che anche solo la parola ci rimanda a un luogo dove noi ci chiudiamo in noi stessi, ci appartiamo, ci portiamo fuori dalla dimensione appunto della socialità e della cittadinanza. Quello che cercheremo di fare insieme in questo laboratorio è prendere per le corna questo problema e mettere in evidenza come l'abitare e proprio l'appartarsi abbia estremamente bisogno di una dimensione estroversa, estroflessa, buttata sull'esterno. Walter Benjamin, un grande, importante filosofo del Novecento, proprio vittima di quei traumi di cui parlavo all'inizio, identificava il luogo dell'abitare come quello della loggia. La loggia è appunto quello spazio che è mio, nella mia casa, ma che allo stesso tempo è aperto al mondo esterno. Lavoreremo proprio su questa soglia, su questo spazio tra l'interno e l'esterno, che costituisce proprio l'edificio. Per Hegel l'edificio è il luogo che permette allo spirito di riconoscersi nella sua internità a partire da un'esternità. Sembra astruso, ma vi assicuro che ha molto molto a che vedere con un problema che magari incontrerete il prossimo anno quando andrete all'università e vi troverete a cercare una casa, cosa che non è affatto facile, ma che allo stesso tempo vi renderete conto come avere una casa e avere una forma per abitare una casa sia un aspetto fondamentale per la costruzione della vostra libertà. Questi i temi che cercheremo di affrontare insieme nel laboratorio promosso dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna in collaborazione con l'Associazione Mela Insana. Ci vediamo il 15 novembre. Grazie e buona estate a tutti!